Benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 29 giugno. In realtà più che una segna stampa ovviamente non si può non tenere in considerazione quello che ha deciso il procuratore di Agrigento nelle ultime ore, cioè questa notte, e cioè di arrestare, si parla di arresti di domiciliari, la capitana diventata ormai famosissima della Sea Watch. L'ha arrestata, mi sembra di aver capito, non tanto perché potesse reiterare il reato, cosa che ha fatto più volte se di reato si tratta, cioè quello di andare contro la volontà di un decreto, di una legge italiana a recuperare persone in mare per poi portarle a largo delle coste liviche per poi portarle in un porto sicuro che è quello italiano. Non è tanto questo il motivo per il quale Patronaggio, che peraltro è indagato nel passato anche Salvini, avrebbe disposto questi arresti domiciliari, ma per il fatto che questa signorina, capitana di una barca, avrebbe messo in pericolo la vita dei finanzieri all'interno di una nave, della guardia di finanza, nel momento in cui la sua nave invece che sembra al di fuori di ogni, come possiamo dire, regola, di qualsiasi legge piena di parlamentari del PD, insomma quella nave può fare quello che nessun altro può fare, cioè se io posso in Italia, se tu violi un blocco con dei carabinieri rischi che ti sparino, in Italia, non in America, non in un paese diciamo che è una giustizia un po' più frettolosa, mettiamola così, nei paesi democratici in tutto sommato esistono delle leggi buone o sbagliate che siano che si debbono rispettare e soprattutto forse quelle divise, se Patronaggio oggi dice una cosa molto importante, il procuratore di Agrigento, e dice insomma va bene le questioni umanitarie, però forse stiamo un pochino calmi perché qua ci sono delle persone in divisa che fanno il loro mestiere, quindi non è che proprio li puoi speronare, questo più o meno ha detto Patronaggio, insomma le cose cambiano un po', però queste cose ovviamente non cambiano nel clima di tifo che c'è in questo paese, e lì forse c'ha ragione Mattia Feltri quando dice che i liberali come me stanno chiudendo gli occhi a questa grande battaglia liberale, io non lo so se questa è una grande battaglia liberale, quella di libertà della capitana della Sea-Watch, penso al contrario che questa sia una grande battaglia ipocrita, una battaglia ipocrita per cui per il fatto che noi abbiamo un ministro degli interni rude, per il fatto che abbiamo un ministro degli interni che probabilmente fa campagna elettorale su questa vicenda, così come la fa il PD che sale a bordo della Sea-Watch, beh in questo clima noi permettiamo e noi ci permettiamo nel giornale più chic dell'Italia, cioè il foglio, di vederci scritte le seguenti cose, e la cosa che mi fa terrore è che queste cose le scrive Adriano Sofri, condannato per un omicidio mostruoso, ma vedete anche lì si dice è stata una condanna molto equivoca, non lo so, però condannato per l'omicidio calabresi, ma quando io leggo Sofri che scrive queste righe condannato o non condannato e rivolte a Salvini, ve le leggo, senti brutto stronzo, ti piace insultare una giovane donna in gamba a nome del governo italiano, eh? Maramaldo, a nome degli italiani, 60 milioni, pallone gonfiato, ceffo vigliacco, ti sei rotto le palle, eh? Coglione, te li sudi i tuoi selfie, è disgustoso gradasso, questo lo sta scrivendo Sofri sul foglio ieri, non è granché, ammetto, sento che si può fare di meglio, ciò è di peggio, tu sì, mezza calzetta, tu puoi, fatti un altro selfie completa, tu a piacere, controfirmo tutto, a me mi fa orrore, non il ministro degli interni, Sofri, uno che è stato accusato di aver ucciso il commissario calabresi, uno che è stato condannato, magari ha torto su quello, uno che comunque di quel clima di merda degli anni 70, dove i buoni erano il commissario calabrese, non quelle merde vigliacche di lotta continua, chiaro dove stavano i buoni? I buoni lì io ce l'ho ben chiari dove stavano, i buoni stavano esattamente dalla parte opposta di Sofri, Sofri scrive una cosa di questo tipo, oggi, ieri, anzi sul foglio io so da che parte stare, ma lo so proprio sicuro, sto dalla parte di Salvini, sto dalla parte della guardia di finanza, sto non dalla parte, come dice oggi, della verità, in un'intuizione secondo me geniale, da questo fenomeno di Del Rio, che ce l'aveva anche con Minniti quando chiudeva i porti, ma non li chiudeva, quindi sto dalla parte non di quel PD che sale a bordo di una nave la cui capitana è stata giustamente arrestata, secondo un procuratore, vedremo poi la scarcererà un giudice, ci sarà un processo e li seguiremo fino alla fine, ma comunque la questione fondamentale che questo governo si può criticare, lo faccio anch'io oggi sul foglio, scusate, sul giornale, ma se io penso alle parole, alle volgarità di Sofri, mi fanno più paura le volgarità di Sofri, di quello che lui rappresenta rispetto a quelle di un sua diso volgarone ministro degli interni, ma vado avanti, vado avanti, perché come dice giustamente la verità, mentre il PD con l'ex sindaco di Reggio, nove anni sindaco di Reggio, vanno sulla nave dei migrianti, tutti zitti e muti per quello che è successo, l'inchiesta Ancel e Demoni sull'asilo Ancel e Greta, vedete voi, sono tutti da condannare questi signori, non lo so, io so che queste persone hanno tirato via 30 ragazzini dalle loro legittime famiglie, avete presente cosa vuol dire che i miei figli che stanno di là viene un magistrato e se li porta via perché gli assistenti sociali si inventano che quelle persone lì, cioè i miei figli di 10, 3, 4, 5 anni hanno subito violenza, questo è avvenuto certificato per Tabulas, lo scrive oggi bene Vespa sul quotidiano nazionale, per la vicenda di veleno, sempre nella bassa modenese, nella pianura dell'Emilia Romagna, sempre è avvenuto lì questa roba qua, è a pochi distanze, 80 km di distanze, lo stesso contesto di assistenti sociali che assegnano, ma vi sembra normale che si possa assegnare questo, non so se è penalmente rilevante un bambino che si sradica da una famiglia, l'assistente sociale, questa donna assegna un'altra donna ex sua fidanzata, perché ovviamente è lesbica, quindi va benissimo che siano lesbiche, ma forse in realtà qui non lo chiami abuso d'ufficio, come l'avresti chiamato se fosse avvenuto, diciamo, tra persone normali che assegni questi bambini come se fossero delle figurine alla tua ex fidanzata in giro per, insomma, questa storia qui, ne tratterò lunedì, non finisce qua, è una roba mostruosa, mostruosa, perché quando togli un bambino la propria famiglia non è che devi essere sicuro, devi essere cento volte più garantista di quanto lo sono io nel fare questo video, chiaro? E questo a veleno ci insegna, non è avvenuto. E il PD che fa in questo contesto storico, come dice oggi bene Borgonovo, in cui erano tutti loro, in cui la stupenda Emilia Rossa funzionava, è per l'ennesima volta l'ennesimo scandalo di queste associazioni, onlus, assistenti sociali, che tiravano via i bambini dalle famiglie, ovviamente da quali famiglie le tiravano? Da quelle degli immigrati, da quelle dei poveracci, da quelle dei meno colti, da quelle dei più disagiati, da quelli che c'erano dei problemi, perché sono le uniche famiglie che non potevano difendersi. Io questi qua li prenderei calci nel sedere, guardate, ho un odio nei confronti di questa cosa che non avete l'idea, se vi leggete il libro di Trincia su veleno vi rendete conto cosa vuol dire togliere un bambino mentre sta appartorendo la madre perché si pensa che possa commettere abusi anche nei suoi confronti. Ferrara oggi fa un pezzo in cui dice, insomma io sto ovviamente contro Salvini, il truce, però attenzione a fare di questa capitana Carola, che piace molto a Ferrara, che dice che sarà la parte dei buoni, tutte le cose qui, ma a idolatrarla, financo lui se ne accorge. Mentre Gnocchi è straordinario, oggi sul giornale ci ricorda come dall'elemosiniere che commenta un'illegalità in un palazzo romano, ricordatevi l'elemosiniere del Papa, chissà come è finita quella roba là, quello che è certo è che hanno già fatto tre rave party grazie alla luce messa dall'elemosiniere, quindi sono contento per loro, pagati. Bene, dall'elemosiniere a Carola la disobbedienza civile è diventata una regola. E poi vi dico io, ragazzi, voi che siete colti, voi che leggete libri, voi che siete diversi rispetto a questa destra becera di merda, voi che siete soffri, voi che avete letto i greci e i classici, tutti da un mese ci sfomballate le balle tra Lucano, tra l'elemosiniere del Papa e tra questa capitana con Antigone. Basta, basta, cercare di trovarne una nuova, cioè no, è anche da vecchioni a Merlo, non so, tutti su Antigone. Trovate anche un filo più originale giornalisticamente, se no guarda con la rotativa come succedeva negli anni 80, possiamo scrivere il pezzo su Antigone oggi, già sono pronto. Andiamo alle altre questioni di giornata, su tutti quanti, le prime pagine giornali, il Ponte Morandi che viene distrutto ieri, io mi chiedo che c'è da festeggiare, io me lo chiedo molto banalmente, cioè perché stanno festeggiando? Perché ieri c'era tutto il governo, il Ministro 30, Salvini, Di Maio, non so se ci fosse anche Conte, ma che cosa state festeggiando, belli di mamma, io voglio capire che cosa stanno festeggiando, ci hanno messo 11 mesi per abbatterlo, io mi ricordo che quando andarono ai funerali dissero in 8 mesi lo rifacciamo, in un anno è pronto, è pronto? No, l'avete distrutto ieri, in 11 mesi, io sarei stato zitto e buono, cioè festeggiare il ponte che viene distrutto è una delle cose più ridicole che io abbia visto e sentito negli ultimi anni. Piano, giustamente, oggi su Repubblica dice che sarà una festa solo quando lo ricostruiremo, questa roba è una cerimonia politica ridicola, poi vabbè, ovviamente oggi c'è tutto il discorso dell'Atlantia, delle autostrade, qui questi geni del governo vogliono togliere la concessione, il fatto quotidiano gode come un riccio perché dice che li stanno già togliendo, i tecnici del governo hanno già stabilito che il contratto non è valido. Stiamo a vedere quello che succederà, poi dopo quando noi faremo fuori un'azienda decotta, come la definita Di Maio, saremo tutti contenti. Ricolfi, favoloso, oggi come sempre sui numeri con il messaggero, ci racconta perché il reddito di cittadinanza sta testimoniando che ci sono molti meno poveri di quelli dell'Istat, per due motivi, il primo è che ci sono due norme tecniche, e cioè dice Ricolfi che devi essere residente in Italia da più di dieci anni. E il secondo motivo è che il reddito è diverso tra vero, tra nord e sud, al sud ovviamente con quei soldi stai bene, al nord stai male, ma il punto fondamentale dice A che i poveri non sono quelli dell'Istat, sono di meno, e B dice chiaramente Ricolfi, attenzione, che la maggior parte dei poveri sono i migranti e che si stabiliscono in Italia e che sono qui da meno di dieci anni e quindi non possono fare accesso al reddito di cittadinanza, ma vengono considerati poveri dall'Istat, quindi sono poveri senza reddito di cittadinanza. Allora io a questi geni dell'accoglienza, di Antigone e delle mie straballe dico, voi che siete dei fenomeni e che state su queste navi e che li prendete con gli aerei, che li pattugliate e che li aiutate, e Bartolo che si inventa le sue referti medici e tutte le vostre minchiate qua. Bene, voi una volta che questi li avete salvati, come ve li gestite? Cosa gli fate fare? Cosa fanno? Vi ricordo che il reddito di cittadinanza, questi non potranno averlo, così non potranno avere probabilmente un documento, così come non potranno avere un lavoro, così come non potranno avere una casa, così come andranno a ingolfare le statistiche dell'Istat che come il menimo riporta tra i poveri indigenti, come massimo li può portare i delinquenti che non hanno altro da fare. Ma quale azienda, dice Porro, quelli delle autostrade lucravano, perché invece ANAS funziona bene, ANAS non ha nessun problema. Facciamolo gestire all'ANAS, facciamolo gestire a Di Maio e Toninelli le autostrade italiane, invece che le autostrade. La presidenza della Commissione UE oggi ci spiega il sole 24 ore, forse qualcuno poteva pensare andasse a Draghi, cioè che lascia la BCE per il fine del mandato a novembre per fare il Presidente della Commissione Europea, ma Draghi fa sapere oggi sul sole 24 ore attraverso i suoi portavoce che non ha intenzione di fare Presidente della Commissione UE. Mi stupisce oggi il foglio, non perché dia parola a Landini, segretario della CGL, tutti noi, anch'io lo vorrei invitare a Quarta Repubblica, ma c'è un sovrappiù, e cioè che la politica economica di questo governo viene criticata dal segretario della CGL, e io mi dico, ma siamo così sicuri che la politica economica fatta da Landini sia molto meglio della schifezza fatta da questi? Siamo così sicuri? È una domanda che faccio laicamente, perché è ovvio che probabilmente sull'industria è meglio Landini di Di Maio, ma è anche bene ricordarsi che Landini fu quello che fece scappare la Fiat, rischiava di far scappare la Fiat, a differenza degli altri sindacati, CISL e UIL, come il foglio dovrebbe un po' ricordarsi quando c'era la trattativa sui contratti di Marchionne. Adesso che Landini diventi un mito dello sviluppo e della politica economica di un governo rispetto a questo, io ho i miei dubbi, Landini forse farebbe peggio di questi qua, molto peggio di questi qua. Stiamo attenti, oggi sul giornale dico che hanno fatto un orrore dell'economia italiana, su autostrade, su ILVA e su tutti i decreti di dignità, ma insomma andare a rispolverare Landini mi fa un certo, diciamo, mi mette un po' di ansia. Dio mi saldi da Landini, dici qualcuno di voi, i sindacati hanno arrivato il mondo del lavoro, alcuni, l'assistenza non crea lavoro, bisognerebbe capirla, per questo una taccera è necessaria, caro Matteo la taccera in questo paese di Di Maio e Landini non l'avremo mai. Siamo allo sbando, stanotte ho visto in diretta che disarmo. Landini che delusione, intorno a casa mia ci sono cinquantina e le assicuro che motori a 3 euro non li vanno a raccogliere. Ciao Nicola da Rita e Irene. Nicola condivido pienamente il tuo pensiero. Vabbè, siamo tanti questa mattina, vi do appuntamento come sempre sul mio sito nicolaporro.it perché oggi della questione dell'arresto di Carola ne parleremo ancora tanto. Ciao!